E' con piacerissimo che abbiamo qui oggi ospite Omar Elandani che adesso lascerò la presentazione a se stesso, anche lui ha iniziato prestissimo Pensa che ci siamo incontrati al bar, io e Paolo che eravamo ancora ventenni che stavamo iniziando a fare il suo mestiere a Porta Nuova a Torino Perché noi l'hanno commentato sul suo forum, cazzo sei figo, incontriamoci Il forum che servivano, ci siamo incontrati così Assolutamente Aver perso il forum è... È stata una grande perdita Ma... 20 anni nel senso... Allora, quanti anni hai adesso? 30 10 anni Ah, sì, noi siamo partiti Ah, io sono partito perché tendenzialmente un giorno ero davanti... E io con Abdel, Adimo, Isfi e Gabriele ci abbiamo fatto la scuola insieme Quindi ci conosciamo Abdel lo conoscono come Smauri Come Smauri Ho quel ragazzo marrone con i dread che fa... che una le cose Cosa è successo? È successo che a un certo punto ci eravamo persi di vista per un po' di tempo io e lui Dopo che avevamo fatto un po' di progetti di sviluppo e simile Ricompari dicendo c'è sta roba fighissima che si chiama Cyber Security Sì, dovremmo forse cambiare la champagne dello sviluppo, proviamo a fare... proviamo a fare questo Ed io stavo studiando giurisprudenza ai tempi e mi diceva... ma sì, ci siamo messi sotto In realtà poi da lì... Stai studiando giurisprudenza Stai studiando giurisprudenza Stai facendo giurisprudenza, ho incontrato degli occhiali che arrivavano praticamente fino alla fine della faccia E niente, da lì c'è stato il pallino Poi abbiamo avuto la fortuna che a Torino c'era una comunità abbastanza viva C'era Wojtzec, c'era Matteo Beccaro, Baggi e c'erano tante altre persone che erano super giovani Ma addirittura forse Baggi, Beccaro ai tempi era ancora al liceo E' pazzesco, quanto tempo è passato E poi in realtà tutti quanti che hanno iniziato quasi tutti gli iniziativi imprenditoriali in ambito sale E siamo partiti insieme Ecco, infatti, allora, ti lascio dire un attimo cosa fai adesso Certo E poi ti chiedo una cosa Certo E io cosa faccio? Tendenzialmente la parte che mi viene meglio è l'avvio Nel senso, perlomeno così mi prendono in giro gli altri miei soci Che è quello che dicono adesso Nel senso che sono un amministratore delegato insieme ad altri sulle varie società Di Shilder e di Sicuronex Quindi con una parte, con un'azienda, si ownano e si fa penetration test RT Teaming, che sia AppSec, che sia IoT, che sia attività più complicate come il teaming stesso Dall'altra parte mettiamo in sicurezza e sviluppiamo soluzioni per mettere in sicurezza Quindi due facce della stessa medaglia Eravamo partiti con la parte offensive Poi ho avuto la volontà di voler differenziare il business In primis e in secundis di quello di far esplodere meglio quello che erano le capacità degli altri nostri soci E poi c'è Gabriele stesso che ha parlato prima Da lì poi ha iniziato il progetto Sicuronex Adesso ci ha dato tante, 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 tante soddisfazioni E sono andato molto molto bene Shilder, credo che tu abbia avuto un sacco di soddisfazioni Shilder sì, assolutamente Da quanti anni ci esiste? Siamo otto anni che siamo sul mercato Siamo partiti con 50 euro Otto anni che siamo sul mercato vuol dire che tu avevi 22 anni 22 anni, 20 anni avevamo deciso di fare cyber Due anni ci siamo messi in incubazione E poi da lì siamo partiti Avevamo partiti con la prima partita IVA Spendendoci con 50 euro di investimento Che mai ho ridato a Gabriele A Davide l'indietro Speriamo che non li abbiamo ridati Anche perché con l'interesse composto Adesso sarebbero un pochino più alti E poi in realtà noi siamo partiti così Shilder è la madre di tutti i progetti che stanno dietro Perché adesso poi abbiamo fatto altre società Altre iniziative Però Illa l'ha dato Ma è normale, secondo te? 22 anni far partire un'azienda Allora, premessa C'è una cosa comune? Ma secondo me sì Noi siamo fortemente Per quanto le nostre origini siano magrebine Siamo fortemente patriottici A differenza di Chi invece sputa abbastanza sul piatto in cui ha mangiato adesso Che è il sistema Italia Eravamo lì per strada e ci siamo detti Tendenzialmente da le situazioni in cui eravamo Che erano abbastanza disagiate dal punto di vista finanziario Economico e tutto il resto Hai un bivio Che o fa il coglione E non cresci O ti rimbocchi le maniche Che ti impegni Noi avevamo deciso di provare Per la seconda Ok, però perché Non intraprendere un percorso tipo Faccio la gavetta Faccio il consulente per Adesso dico due nomi Assento un reply Così almeno Mi odiano da tutte e due le parti Certo E poi Boh C'ho il mio stipendio fisso Non devo pagare gli stipendi a nessuno Torno tranquillo Ma noi siamo incresciutti Cioè perlomeno Io sono incresciuto un po' con il mito di Olivetti E quindi tutto il concetto dell'importanza dell'impresa In quello che è il sistema welfare dello Stato Cioè il tuo obiettivo era Fare l'impresa Sì, io ho sempre voluto fare l'impresa Ma principalmente per un motivo Io sono Sono figlio di immigrati Abbiamo avuto diverse difficoltà economiche Soprattutto dovuto alla crisi del 2008 Quando c'è stata poi tutta quanta Aziende in automotive Che si sono spostate all'estero Tra cui la mia famiglia Poi è iniziata a patire tanto quello Però io nonostante il fatto Ci fossimo trovati In un sistema di difficoltà Estremo Con i carabinieri Che sono venuti a cacciarci di casa Perché non potevamo pagare l'affitto Io sono riuscito a studiare Sono riuscito a iniziare Un'iniziativa imprenditoriale Sono riuscito a mangiare Ad allenarmi Andare all'università E a fare tutto quanto Questo è dovuto ad un meccanismo Che tendenzialmente Tendiamo a dimenticarci Cioè l'intera Europa È una penisola felice In cui questo funziona In cui non parti mai da zero Cioè parte da zero Un povero ragazzo che sta in Africa In termini di diritti Ma in termini di tutto Cioè noi qua Nessuno parte da zero Anche se non hai niente In Italia, in Europa Tu parti almeno da sei Non parti mai da zero Perché quando hai la possibilità Di poter accedere all'università Alla sanità E la possibilità di poter iniziare Un'iniziativa imprenditoriale Far cose Non parti da zero Quindi non esiste Starebbe qua Del mito del self-made man In Italia In Europa Non esiste Ti faccio un'obiezione Che farebbero in tanti Prego Però in Italia È tutto più difficile Cioè nel senso La pressione fiscale Non puoi licenziare Il dipendente Sono tutte cose Che sento dire Ad altri imprenditori Tutte cose giuste Cioè meno male Che non puoi licenziare La gente con la stessa facilità Che sta succedendo adesso In America Tutti quanti Cioè Quando è successo Questo boom Dei licenziamenti in America Ho detto Minchia Speriamo che questo serva Per far capire Che l'El Dorado Non esiste Che il concetto Di andare a lavorare Per le big tech Non è tutto quanto Il Dorado Adesso Paolo No vabbè ma Paolo Ma figurati Paolo ho una stima Cioè ci sono cresciuti insieme Paolo può fare quello che vuole Non è troppo bravo No scherzando No a netto di quello E poi ognuno si sceglie Le sue battaglie Non è una battaglia di uno Non è una battaglia di tutti quanti L'altro elemento La pressione fiscale Ah micchia ma meno male Cioè tu Il concetto Cioè un giorno Ero sempre con i miei soci Ci stavamo parlando E mi era venuto Il pallino a dire Ma cazzo Ma perché dobbiamo pagare Tutte queste tasse E Smallie disse Vuoi guadagnare di più Fattura di più Se tu vuoi ragionare In un concetto Puramente individuale Allora sei lì Ti fai tutti questi giochi Ste scatole In cui ti sposti Tra Malta E altri paesi Che non nomino Sennò farai incazzare Troppi amici Ho detto Malta Che forse è l'unico In cui non c'ho degli amici Che hanno aperto Un'azienda lì A Polo Nord Se invece Il tuo obiettivo Non è puramente individuale Ma Entri a far parte Di un ragionamento Che è quello collettivo Cioè che tu Quando fai impresa Stai creando Stai partecipando Al benessere Del paese In cui lo stai facendo E allora cambia tutto quanto Adesso va di moda Tutte semenate qua Sull'indipendenza finanziaria Tutto il resto Ma cosa te ne fai Di essere indipendente Finanziariamente Se poi quello Al tuo fianco Non ha la possibilità Di poter avere Tutti i stessi mezzi Il sistema Nel liberale Funziona esclusivamente Quando garantisce A L'ascensore sociale Cosa che ha fatto con noi Perché noi arriviamo Dalle popolari B Garantisce Il welfare state E per quello Cioè questi sono I motivi Per cui tu dovresti fare Impresa Poi su cosa fai Impresa E la passione Per la quale ti muove Noi abbiamo avuto La fortuna di Farla in Italia Ma di mestiere Oniamo cose Sviluppiamo E mettiamo in sicurezza Quindi diciamo Che ci è andata Notevolmente bene Da questo punto di vista Ma Non lo so Per me È inspiegabile Qualsiasi ragionamento Fuoriesca da questo Però È perché Tipo io sono così Ma se uno Non gliene frega niente Del sistema Del sistema In cui vive Allora può prendere Andare da prima All'altra parte E godersi E godersi Imprenditoriale Assolutamente C'è nel senso Come dicevo prima Ognuno si sceglie Le sue battaglie Ma Poi mi cazzo notevolmente Quando tu invece godi Del benessere Dei privilegi Del posto in cui stai E invece paghi Le tasse D'altra parte E quello non è una roba Che mi fa Mi fa impazzire Ma Sono Certo al 100% Però Che tutto questo Che poi Te lo faccio raccontare meglio Se vuoi Tutto questo percorso Che avete fatto Tu Abdel Gabriele Eccetera Abbia avuto Degli ostacoli Burocratici Barra Economici Sicuramente Eh ma Allora Non esiste Cioè In Italia Cosa si deve preparare Qualcuno Che come voi Vuole fare Shiller 2 Oggi Ma allora Si deve preparare Ad essere imprenditore Ad essere commercialista Ad pagare le tasse Ma Allora Sicuramente Deve prepararsi Grazie al fatto che Se hai altri amici Come abbiamo Paolo Il nostro gruppetto Poi altri Se ne sono andati Giustamente all'estero Perché hanno Altri paradigmi Altri aggiornamenti Diventeranno tutti quanti Piurichite E questo lo prendi Lo metti da parte Ti devi preparare A diventare Annetto No Comunque Si possono avere Notevoli soddisfazioni Anche sul mercato italiano No La preparazione È che È molto più difficile Che farlo In altri territori Ma al tempo stesso La difficoltà Che si sta scontrando adesso Dovrebbe diventare Uno dei target Che tu dovresti portarti Come imprenditore Cioè Ridurlo ai prossimi Cioè Piangerti Cioè La nostra concezione Ma questo come Shiller Sicur An Explained Spaces E tutte le aziende Del nostro gruppo È non piangere Prima risolvi il problema E poi dopodiché Agisci sul Come poter far sì Che quel problema Lì non Non succede Perché altrimenti Non serve a niente Star lì e dire In Italia La tassazione è alta E tutte queste altre menate Cioè Dopo che Hai detto Il tuo consiglio È buttarsi Sempre 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 Creare valore Creare valore Nel proprio territorio Dove il valore Sta a posti di lavoro Spingere tecnicamente Il proprio paese E così via Cioè Il mercato Ma anche quello cyber Sta andando in una logica Di totale accentramento E agglomerazione Delle società Ma questo Non solo Il nostro mercato Il mercato IT E così via Sta roba Non è che sia Proprio il massimo L'accentramento In gruppi Fa sì che poi Dopodiché Si riduce Quella Cioè I gruppi di aziende Che fanno La stessa cosa La stessa cosa Abbiamo un po' di esempi Sì Ce ne sono Ce ne sono tanti Ma la concorrenza Il fatto che domani Arriva Andrea Menin E voglia aprire Sicura Next 2 O Shielder 2 E mi viene in concorrenza A me Amica ma ben venga Che sia lo stimolo Per poter fare a noi meglio Cioè tutti quanti Prendono in giro Il mercato italiano Che è un mercato Fatto di PMI Ma cazzo Cioè quella Non è una sconfitta Quella è È una delle cose migliori Come asset Di PMI Intendi Intendo che società Ci prendono in giro Dall'America Gli amici dicono Eh per voi Un'azienda grande Che fanno sicurezza Sono PMI Sì Ma non solo In Italia Sì Tendenzialmente si Tolto le big Che ci sono Come quelle Che hai nominato Prima Ma il discorso è Che tendenzialmente Quella roba lì È una vittoria Più aziende ci sono Più concorrenza c'è Più il gioco è divertente Quindi il Ben venga Che i ragazzi Vogliono Cioè a me Scazza Il fatto di Non creare effetto emulazione Cioè Sono ben contento Se ne nascono altri eventi Di scelgere Sicuramente Qual è il gioco Ok E E Sono curioso di Cioè io più o meno lo so Ma sono curioso di farti Raccontare Esattamente come è andata Cioè nel senso Se vuoi Ovviamente O metti tutti i dettagli Che non vuoi Tutta la roba per cui Si va in carcere Non scherzi Però Per capire Anche Un po' Le dinamiche Cioè Cosa Come Come siete partiti Con Shield Assolutamente Ok Era un periodo in cui Non navigavate nel loro No no Noi siamo Noi nel primo contratto Da 200 euro al mese Abbiamo aperto l'SRL Dalla partita IVA Cioè E quindi Cioè Tendenzialmente Non ci pagavamo Manco l'affitto Poi ci siamo presi Il primo gruppo Di disperati Che ci hanno creduto Che stanno ancora qui con noi Oggi Non si sa per quale essere il motivo Ci siamo messi in un ufficio Che era Un appartamento marcio Con le finestre sottili così E senza il riscaldamento Abbiamo messo una stufa a pellet E da lì ci siamo messi Semplicemente a studiare Qua mi chiedono Come avete trovato i primi clienti Ad esempio Ah ma i primi clienti Aleandro Ma i primi clienti Ma non Situazioni comiche Anche che C'è nel senso I primi clienti L'hanno trovato Andando Andando col pullman A cercarli Con Abdel Che veniva con le magliette Di Akinbo E simili Quindi è stata una roba Cioè abbiamo avuto la fortuna Di avere tanta gente Che ha creduto in noi Che ci ha sponsorizzato E così via Noi siamo partiti Da questo ufficetto marcio E da lì Ogni pezzo Abbiamo aggiunto Uno dietro l'altro Però È la dimostrazione Che in Italia si può fare Perché noi Investimento L'ingresso Zero Cioè a netto di quei 50 euro Veramente Da quei 50 euro lì Poi abbiamo messo Da parte Però Si può fare Si può fare con la cyber Perché ti serve un computer Non lo puoi fare Se vuoi fare il cazzolaio Cioè assolutamente O se vuoi fare Ma Non so perché Ma la mia percezione Sempre Lo puoi fare Se sei Un po' bravo Cioè se sai Quello che stai facendo No Nessuno di noi era eccezionale Nessuno di noi era bravo Lo puoi fare Se ti metti Noi facevamo la gara A chi usciva per primo dall'ufficio Inconsciamente E perché arrivava primo Perché quello che avevamo bisogno Era quello di studiare Cioè Gabriele poi dice Sul ginnasio Lo mandi avanti la vita Io ogni anno dico L'anno prossimo usciamo dal ginnasio L'anno prossimo usciamo dal ginnasio Perché chi non lo sapesse Ne avevamo fatto tutti quanti Materie umanistiche Ginnasio E dopo i primi due anni di liceo Cioè poi dopo di che inizia I tre anni che è il classico Poi c'è il diploma La palestra Noi l'abbiamo tirata a lunga per Ogni anno diciamo L'anno prossimo È durata 7-8 anni Però intanto nel frattempo Adesso poi I frutti ci arrivano Però L'unica discriminante È quello che diceva prima Paolo È il mindset Cioè Se ti metti lì E studi E provi a fare le cose O sei totalmente inetto E a quel punto lì Non c'è tanto che ti salva O se sei il minimo Di quotiente intellettivo Che serve Qualcosa nasce sempre fuori Ma quindi Non credi che Tu abbia potuto fare Queste società che partivano Con niente Diventavano SPS Si quotavano in borsa Facevano queste operazioni qua Secondo me duri poco È un mercato che è notevolmente concorrenziale Il turnover è altissimo Tolto da noi che Questo facciamo evanto In cui abbiamo un turnover più vicino allo zero Che all'uno E hai una concorrenza Perché hai una concorrenza Perché abbiamo Secondo me è perché abbiamo La vision alla gente Che è quello di Creare valore insieme Cioè Noi facciamo ricerca Ci sbattiamo Studiamo Quando dai la visione E non diventa il fatto Che tu stai facendo un PT O stai analizzando un alert Solo per far quello Cambia Ok quindi è un discorso di Coinvolgere Attivamente il dipendente In una In una sorta di Visione comune In una sorta di direzione comune Sì È assolutamente fondamentale Assolutamente fondamentale Quello che dicevo prima Sull'importanza Cioè La bellezza del Del fatto che ci sono In Italia Tutte queste aziendine piccoline Porta In primis Una frammentazione Della ricchezza Che è un fattore fondamentale Per far sì che non ci siano Come in America Una persona che guadagna 160 miliardi E altri che invece Vivono per strada Senza welfare Sì Una minchiata Ma la buttiamo lì Ce la portiamo a casa L'altro L'altro elemento fondamentale Serve proprio quello Per poter dire Cioè Aumentare La competition Anche tecnica Rispetto agli altri Cioè Noi Da noi Quando La gente ci crede veramente In quello che fa Sta roba fa Cambia 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 Io torno sempre sul discorso Del tipo Anche circondarsi Delle persone giuste Ah sì Presuppone il fatto Che comunque Tu Sappia esattamente Quello che stavi Cioè tu Abdel Gabriele Sì Devi saper riconoscerlo Assolutamente Devi saperlo riconoscere Cioè Comunque il fattore culo È un sine qua non Noi abbiamo L'opportunità di Circondarci Sempre di persone Che Secondo me poi Non è tanto culo Sì Ma anche un discorso Che tu attrai Quello che ti più simila a te Cioè Tendenzialmente Questa Questa mi Ci sta Se il tuo Se tu Volevi fare solo Il mercenario Ci sta E un'altra roba Lo fai Lo fai con altri Se il tuo obiettivo È saltato da un'azienda all'altra Per farti aumentare la RAL Di più 3% 5% Quello che è Ci sta Lo fai con altri Perché da noi Manco a terri Cioè Non ti ripostiamo Non è un gioco Che puoi fare con noi Chi viene da noi È gente che è motivata Cioè C'è un ragazzo Che Adesso per fortuna Abbiamo risposto Michele Che mi avrà scritto Su LinkedIn Per fare il suo colloquio 27 volte Di suo mese qua Noi siamo imballati neri Non siamo riusciti A stare lì dietro Quello lì Cioè Lo dobbiamo portare a bordo Perché tendenzialmente Per la costanza Madonna Cioè È gasato È più gasato Cioè Ovviamente ci sta seguendo È più gasato di me Nel mestiere che facciamo Assunto Eh per forza Per forza Adesso lui non lo sa Adesso Adesso lo sai Adesso lo sa Però mi sono esposto Speriamo che non sia una sega Sto scherzando Sicuramente bravissimo In effetti In effetti È più importante Essere un bravo tecnico O è più importante Essere la persona giusta Secondo te Insomma È più importante Essere la persona giusta Perché Le competenze tecniche A un certo punto Lavorando in gruppo In squadra Quando non È l'affortuna Di poterlo fare Come da noi La competenza Diventa Una sorta di Output Di una mente ad alveare Nella quale Dove non ci arriva Oh Omar Non ci arriva Andrea Insieme Ah Gabriella Paolo Tutto il resto Una rete neurale Se arriva Se arriva un output Tendenzialmente Noi facciamo tanti sync Facciamo i team meeting Dove ognuno condivide Le proprie ricerche Condivide quello che è sotto L'output Chiede aiuto agli altri Comunque creare Quella situazione lì Tendenzialmente Prima o poi ci arrivi O comunque Se hai quella foga lì Di studiare Magari Prendi schiaffi Su una tematica E poi dopo di che Trovi la tua E ti riposizioni All'interno del gruppo Come quello forte In quella tematica lì Insomma è più importante Essere la persona giusta Che vuol dire Essere una persona Che ha una forte Determinazione E soprattutto Devi essere predisposto A lavorare in gruppo Cioè Secondo me Se non sei predisposto A fare questa roba qui A lavorare in gruppo È meglio Se ti fai Il bug hunter Per i fatti tuoi Ti fai il nomado digitale Te la scassi Vai in giro Fai festa Fai solo Freelance Esatto Ma secondo te Qual è stato il boost Dove Avete detto Ok adesso Iniziamo a fare le cose Seriamente Cioè Fino a ieri Eravamo Spiantati Con due clienti Effettivamente adesso Facciamo le cose Sul serio Ma Sicuramente La ricerca su Telegram Ha dato Ha dato un grosso aiuto Cioè Dire che noi Spieghiamola Noi abbiamo trovato Cioè Noi facciamo ricerca In cui Non tutti vogliono E non tutti Sono capaci a fare ricerca Chi è capace a fare ricerca C'è il 25% O il 50% Eravamo arrivati al 100% Ma adesso non lo facciamo più Il 100% Quindi qualcuno Quindi qualcuno Ha questa possibilità Di poter fare Metà del suo tempo Ricerca Durante Nei target Che abbiamo selezionato Abbiamo selezionato Anche Telegram E questa qui Poi andò molto bene Abbiamo trovato una chain Che permetteva di poter Fare cose Assai assai fighe Che abbiamo segnalato Telegram Telegram Non ci ha risposto Se potevamo pubblicarlo O meno Noi caproni Siamo di dritto Poi vediamo Infatti Pubblicata Tipo 200 giornali Cioè è andata Veramente una roba Fortissima È andata ripresa Da giornali Da tutti Wired Repubblica Ma anche giornali estero Aveva fatto il giro Nonostante fatto Probabilmente non è neanche Una delle ricerche Cioè è una ricerca figa Poi abbiamo fatto Ricerche più fighe Ma le abbiamo Sponsorizzate forse meno Meno di quello No Non c'è stato un momento È stato un Cioè io mi immaginavo tipo Ok adesso abbiamo 10 dipendenti Mi sto rendendo conto No perché questi sono aggiunti Non ce ne siamo mai resi conto Non abbiamo mai Alzato la testa Per poterci rendere conto Di quello che sta succedendo Cioè noi siamo partiti Gravamente Ora siamo in 50 In tutto il gruppo Noi ce ne Ne prendiamo atto Soltanto quando Alla fine dell'anno Ci arrivano i risultati Dari responsabili finanziari Con quello che è la voce Di stipendi Altrimenti noi Non ci saremmo mai arrivati Ma è quello che vorremmo Cioè vorrei che tenessimo Come gruppo Cioè Non arrivare mai A quel concetto Perché il momento Che reputi che sei arrivato È il momento Che inizi a scendere Vuol dire che ti stai fermando Cioè noi non dobbiamo Essere mai arrivati Quando reputerò Di essere arrivato Vorrà dire che io Oppure Gabriele O Abdel Ma anche gli altri nostri soci Allora è il momento Che devi fare un passo indietro Lasciare il testimone A nuovi Che hanno quella Quella fuga di lì Però se è il momento Che ti reputi Che sei al punto giusto Allora ti devi ritirare Cosa che io per dire Su altre aziende Che abbiamo aperto Io a un certo punto Mi sono ritirato Perché c'è gente Più brava di me A fare il mestiere Per la quale Io stesso avevo Partecipato Ad aprire quell'azienda Ma anche in Shield Ci sono persone Che ora iniziano A essere più bravi di me A gestire Amministrare i Shield Che tendenzialmente Hanno imparato E sono crescendo Ma così vale anche Poi per i vari team E tutto Ma è giusto così Cioè Né quello che diciamo È benvenga Se tu vuoi farmi Le scarpe A prendere posto Perché vuol dire Che obblighi Prenemente Ma in modo positivo Non deve essere Quella roba lì Morse tua Vita mia Deve essere una roba In cui io puscio te E tu pusci me Perché un buon leader Sa quando Spingere Un altro Un buon gregario Sa quando pushare Il proprio leader E entrambi devono Spingere sulla stessa Sulla stessa roba Non è Non deve essere mai Un rapporto unilaterale Perché nel momento Che è unilaterale L'altro piglia Si rompe il cazzo E se ne va Cioè È matematico proprio Ma Questo implica Il fatto che Cioè Tu Ok Dici Faccio un passo indietro E lascio Alle future generazioni Perché mi rendo conto Che Sono In meno portato In questa mia fase Della vita Assolutamente Ma Presuppone il fatto Che tu abbia una visione Di Cos'altro Vuoi raggiungere O No Queste Noi faremo security E faremo questo A un certo punto Sulle varie funzioni Devi lasciare poi A chi diventa più bravo Di te A fare quello Te li hai A strarti Di più Sulle cose Esatto Su quelle che sono Le Ma perché A un certo punto Uno diventa Pro Adesso Gabriele Può essere Il più bravo In determinati campi Ma poi Se internamente Non c'è gente Che è più bravo Di lui A fare la parte Cyber threat intelligence È un problema Nel senso Vuole dire che Non sta Crescendo un team Lui poi a un certo punto Dovrà perderla Con l'ownership Ma così anche Come lo sviluppo Così come l'R&D Così come la parte Offensive Così come Reteaming Cioè ci deve essere Un passaggio Sarà un momento In cui ci ritroveremo Tutti a guardare Gli scavoli Ma no 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 O guardare i server Ti volvi Cioè nel senso Ti occupi più Della parte Di accompagnamento Di formazione Ma Il mentoring Sì Ma è giusto così Ci sta anche Oppure Ti switchi più La parte Io ci penso spesso Sinceramente Non so se È la vicinanza Ai 40 anni Al fatto che Probabilmente Tra 10 anni Non avrò più Forse Quella cosa Che mi spinge Adesso Ma forse 10 Non lo so Probabilmente 10 Ancora sì Ma 15 20 Probabilmente Inizierò a A tirare Remy in barca Ma è giusto che sia Ma a te non spaventa Ma no Non bisogna mai essere gelosi Di No Ma non ti spaventa Essere troppo grande Per reinventarti No Zero Ma poi Ma No Perché C'è Spav Mi ha una fortuna Noi qui Siamo tutti privilegiati Perché facciamo Potenzialmente Ciò che ci piace Quindi non dovremo mai essere Spav Le paure sono ben altre Le paure Cioè Bisogna avere paura Poi di altro Non di Non essere capace Di inventarti Anzi Cioè Hai quella paura Se ti sei bloccato Troppo tempo In una comfort zone Allora maggior ragione Di prendere schiaffi E rimettete in discussione Tu Abdel Vi siete conosciuti Avete deciso di Intraprendere questo percorso Detto proprio Cioè Nel modo più stupido Che conosco Ma Il vostro nome Le vostre origini Sono state di impedimento In un paese Che non è proprio Il modello In Europa Delle inclusività E del rispetto Ah tu dici L'essere marrocchini No Sì Volevo dirlo in un altro modo Mai No Non abbiamo mai patito Mai una volta Zero Zero Ma perché tendenzialmente Cioè Pur quanto ci possa Lavoriamo Lavoriamo in un settore Nella quale La gente sa riconoscere Se Se ne sai Più di lui In una materia E quindi non guarda Tanto quello No Mai patito Ma in realtà C'è tanti luoghi comuni Sul discorso Noi non abbiamo manco mai patito Del fatto di essere giovani 22 anni Comunque la gente ci dà La responsabilità Che erano enormi Cioè Ci sono barriere Ci sono cose Però spesso e volentieri Sono più nella nostra testa Di quello che sono poi Realmente sul campo Cioè Se tu sai fare una roba La gente ti riconosce Che sai fare quella roba lì Che poi tu sia Sì Esiste davvero La meritocrazia Sì No assolutamente Esiste Allora Tendenzialmente Però se lo chiedo A Le 60 persone Che ci stanno guardando Mi sa che Ci direbbero No Non esiste Ti devi mettere in gioco Per capire se esiste prima Cioè se non l'hai fatto prima Non lo puoi sapere Cioè nel senso Noi Cioè Ma poi non solo Quello io lo vedo con In generale Tanti tanti ragazzi Che hanno iniziato Ma guarda Noi siamo partiti che C'ero io Abdel Che è Ragazzo con i dread Di origine arabe Gabriele che girava Con questi capelli Lumi così Col pizzetto da metallaro Vabbè anche adesso Anche adesso Non è che ti paravano Proprio i backstreet boys O i blu Bianchi Biondi ariani Però nonostante questo Non ha L'Italia Ma poi in generale Cioè nel senso Sta roba di razzismo In Italia Esiste assolutamente Ma è come il discorso Probabilmente di Novax Sono cinque Sembrano 500 milioni In Italia Fanno tanto rumore Fanno tanto rumore Cioè Ok C'è